LADY GRAIN È evidente che da qui sono passate più persone Sir Galad ha ricevuto aiuto Comunicate al Consiglio Che abbiamo rintracciato il prigioniero Avvisate tutti i cavalieri in forza di convergere su Whitechapel Sì, milady Dio mi è testimone Assisterò alla fine della ribellione Andate via! Tutti! Ora! Dobbiamo andarcene È questione di tempo Prima che le autorità irrompano Whitechapel Arrestando ogni uomo e donna Raccogli quel che puoi e vai via Ho una questione da risolvere a palazzo Sei uscito di senno Il palazzo è l'ultimo posto in cui dovresti andare Devo portare Nicola fuori da lì È il minimo per lui Alastair ti conosce Si aspetta che tu vada lì Lo so Allora andremo insieme No È una battaglia che devo concludere da solo Se vivrò per vedere l'alba Ti ritroverò Come vuoi, cavaliere Non lo sai? Non sono più un cavaliere Non sei un cavaliere, monsieur Ma sei un doppio giochista o un patriota? Cosa volete che sia, Marchese? Sono certo tu abbia delle buone ragioni Dopo due rivoluzioni, Lafayette sa che c'è del marcio in ogni fazione Non lo dimenticherò, Marchese Me lo auguro davvero, monsieur Ma se ti opponessi alla causa della libertà Troverai in Lafayette il tuo più acerrimo nemico Adio, monsieur Arrivederci A presto Arrivederci, amico C'è Abbandoni di già? Devi Dunque ricordi il mio nome Ho parecchie cose da spiegarti Avrei dovuto fidarmi di te Non c'è tempo per le smancerie Mi sembra tu abbia fretta di trovare la morte Devo sistemare le cose A qualunque costo Allora prendi questo Oh, e cerca di tornare tutto intero Inizio a pensare che la mia regina abbia un debole per te Capitano ci sta spiegando al basso Nicola, rispondi Sono nelle catacombe Sto arrivando Sir Galahad, sei fuori di cerco Non devi venire qui Non muoverti Tra poco sarò lì Hai sentito? Sì, meglio andare a un bicchiato Maledizione Diamo la distanza Fuoco Diavolo Ricarico I porti provenivano da quella gallina Stanno riportando Aprile il fuoco Ricarico Ricarico Aventa l'uscita Attenzione Surtadui Ricarico Accidenti Ricarico Dannato nitroso Uomo a terra Diavolo Maledizione Maledizione Uomo a terra Diavolo Ricarico Diavolo Sì, signore Accidenti Ricarico Figlio di puttana Uomo a terra Sono a corto di punizioni Merda Sì, signore Sì, signore Potrebbe esserci un problema Sir Lucan Sta arrivando Nicola Esci da lì Subito Non c'è nulla da temere Amico mio Verrò adesso Il mio canale di comunicazione Andrà tutto bene Nicola No, no Diavolo 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 No, no Indietro Diavolo 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 Grazie a tutti.